Ciao a tutti da Rompiscatole Oggi andremo a vedere l'Offshore Power Boat Alt Mode da me ideato per Sixshot della linea Transformers Titans Return Tutti i link che vi nominerò li troverete qui sotto espandendo la descrizione del video Per una recensione dettagliata e davvero ben fatta in inglese di Sixshot Titans Return vi rimando a quella del mio amico Emgo e di cui vi ho inserito il link Abbiamo già visto in un video precedente di cui vi metto il link come siamo riusciti a migliorare e dare una sua dignità alla Submarine in modo ufficiale Oggi andremo invece a vedere come ottenere un Offshore Power Boat proprio partendo da quella modalità Dalla Submarine Alt Mode dei Rompiscatole andiamo a chiudere incrociandole le forche anteriori E poi proprio tutto il muso Avendo cura di ruotare verso l'interno questa parte, questa estremità Andiamo a chiudere il muso anche qui, ruotando verso l'interno questa estremità Andiamo poi a ruotare verso l'esterno fino a rivolgerle verso l'alto queste ruote anteriori Ecco a voi Sixshot Titans Return Nella modalità Offshore Power Boat dei Rompiscatole Possiamo poi andare a piazzare i Titan Masters in nostro possesso dove più ci piace Sfruttando le peg da un millimetro dove sono presenti Possiamo piazzare revolver in questo cockpit posteriore E altri Titan Masters nelle posizioni che più ci aggradano Per esempio qui Qui E qui Prima di chiudere ricordatevi sempre di andare a vedere l'album Transformers Fanat Modes e Contributions Dove raccolgo il meglio di ciò che trovo in rete riguardante il mondo dei Transformers Mettete un like al video Iscrivetevi al canale di Danny Koch che mi ospita E mettete mi piace alla pagina del Rompiscatole Ciao a tutti Dal Rompiscatole Ciao a tutti